E allora partita ufficialmente questa giornata numero due del meeting di Halloween 2K17 con la serie undici della Farfalla ragazzi presentiamo la numero dieci Matteo Magoga a due, Antonio Subranini alla tre, Pietro Cappadona alla quattro, Christopher Mike Manias a cinque, Marco Turco Bovolenta in sei, Tommaso Borella alla sette Si completa questa serie, trenta e quaranta, Thomas Randon